Grazie a tutti i nostri telespettatori 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 Volkswagen Golfo, Volkswagen Golfo, Volkswagen Golfo E per chiudere un ragionamento su Golf aziendale abbiamo le Sportsvan 1.6 turbodiesel, le abbiamo normali, sempre con business pack e bluetooth, oppure con cambio automatico, oppure addirittura con cambio automatico e allistimento highline con navi e partiamo con qualcosa come 18.700 euro, 10.000 euro di risparmio dal nuovo. Una Golf Cabriolet, se avete voglia di divertirvi con quest'estate che sta arrivando, a 17.500 euro. Volkswagen Touran, Comfortline, 7 posti con navigatore e il bluetooth a 19.500 euro. Volkswagen Passat Varian, abbiamo sia 2.000 TDI Business con navigatore e l'Adaptive Cruise Control, che anche i 1.6 con cambio automatico e cerchi da 18 super full. Il prezzo è molto forte, 25.900 euro per questa vettura meravigliosa. Volkswagen Maggiolino Cabrio, abbiamo i 2.000 TDI del 2015, sia il 110 che il 150 cavalli, bianca e nera, vedete che una l'abbiamo già venduta alla Rosi. Il prezzo è 22.400 euro, speriamo che la Rosi non cambi idea e compri poi l'altra, e l'altra invece a 23.800 euro. Volkswagen Tiguan, è appena uscita quella nuova per cui ovviamente è un affare comprare quella di prima. Sport & Style 4Motion DSG del 2015 con navi bluetooth, pensate, da 38 che costa nuova a 26.500 euro. Volkswagen Touareg 3000 TDI Executive con 58.000 km, 20 pollici, navi, pelle, tetto in cristallo. Questa è una vettura che costa nuova a 65.600 euro e viene proposta a 36.500 euro. Uno stock di Audi A1, 1.4 TDI Sportback e km 0, sono veramente full optional, tenete presente che l'Audi A1 base è un po' tristina, invece le nostre sono belle belle cariche di accessori, navigatore, bluetooth, climatronic, sensori di parcheggio posteriore, cruise control, 5 posti, se no dovete per forza essere in 4, pack media, pack connectivity e volante multifunzione a 20.900 euro. Una nuova entrata, Jeep Renegade 1.6 Multijet Limited, km 0, con navigatore, climabizona, cruise control, bluetooth e vetri privacy, a 23.500 euro. E chiudiamo con una icona, Volkswagen Golf GTD DSG, vettura del 2015, 20.000 km, vettura con xeno LED Navi Pro, quindi il navigatore più bello, garanzia fino al 2019, 18 pollici, listino 42.102 euro e venduta da noi a 31.500 euro. Benissimo, noi contiamo veramente di avervi sorpreso e affascinato con le nostre incredibili proposte. Vi lasciamo con un altro paio di spunti di riflessione. Il primo, su tutti i clienti che questo mese acquisteranno una vettura presso la Grimaldi Auto, noi abbiamo intenzione di regalare vita natural durante, pensate, a livello di service, il 15% di sconto su tutte le riparazioni o manutenzioni d'officina e sugli accessori, e la possibilità, visto che molti di voi vengono da lontano, dell'auto sostitutiva disponibile gratuitamente. Poi un paio di considerazioni, visto che non tutti gli operatori del mondo auto sono uguali. Grimaldi Auto è una società per azioni, attiva da 33 anni, l'ha creata mio padre, che è ancora l'attuale presidente, è un'azienda che è proprietà di tutte le automobili che vende, tutte le auto che vedete sono nostre, sono qui, esistono veramente, il prezzo è effettivamente quello esposto e noi vi certifichiamo il chilometraggio di ogni automobile che comprate. Per certificazione intendiamo che vi scriviamo il chilometraggio sia sul contratto, che sulla cellula di garanzia, che sulla fattura di vendita. Provate a vedere quante aziende del mondo auto sono in grado di farlo. E detto questo, vi salutiamo, vi abbracciamo e vi aspettiamo numerosi. Arrivederci, ciao! Grazie a tutti!